Adesso parliamo di sindacale, nuove assunzioni, nuovi mezzi, aggiornamento degli stipendi. Questi sono solo alcuni dei punti del documento redatto dall'USB dei Vigili del Fuoco di Sicilia, consegnato questa mattina al prefetto di Catania, a margine di un sit-in proprio davanti la sede della prefettura su Via Etnea. I pompieri tornano sul piede di guerra senza però abbandonare il campo. La Sicilia infatti in questi giorni brucia in più parti il servizio curato da Mario Grasso. Il documento è stato consegnato al capo di gabinetto della prefettura di Catania perché lo inoltri al Ministero degli Interni. La situazione dei Vigili del Fuoco in Sicilia è drammatica e allo stesso tempo paradossale. È drammatica perché nel documento si legge come siano necessarie le assunzioni, siano da rivedere le piante organiche, siano vecchi i mezzi. Dall'altro lato la Sicilia continua a bruciare e da più parti si invochi personale e nuovi mezzi. Nuovo sit-in questa mattina della USB Vigili del Fuoco di Sicilia, stavolta dinanzi la prefettura di Catania, per un incontro con il prefetto a cui consegnare un vero e proprio brogliaccio con cui si chiedono più corsi di aggiornamento, l'adeguamento degli stipendi al carovita, ma anche togliere finalmente i parziali idonei dal conteggio degli operativi. Sì, diciamo che è peggiorata la situazione rispetto a qualche anno addietro perché gli aumenti contrattuali non sono arrivati, non sono arrivati le unità che abbiamo richiesto da tanto tempo. Gli interventi sono aumentati nel territorio, soltanto nel mese di giugno abbiamo espletato 2000 interventi per incendio e vari. La situazione è veramente critica perché quotidianamente chiudono i distaccamenti a Catania come anche negli altri territori. Abbiamo chiesto l'intervento dei sindaci per far riclassificare le sedi di servizio ed aprire altri distaccamenti nel territorio siciliano, perché le piante organiche sono ormai datate di un ventennio. Insomma, da qualunque lato la si vede la frittata è bella e buona. Il contratto potrebbe portare anche il riconoscimento delle malattie professionali. La pandemia ha bloccato le assunzioni, la procedura speciale e il concorso pubblico a 250 posti, che sicuramente permetterebbero di sbloccare anche le mobilità. Chiediamo che vengano separate le mobilità tra leggi speciali e mobilità anziani, che di fatto questi colleghi rimarrebbero per altro periodo nei comandi di prima appartenenza in assegnazione. Abbiamo richiesto e sollecitato più volte all'amministrazione di avere rispetto verso la Sicilia. Era nato un progetto Sicilia in 72 ore che allo stato attuale non è applicato. Le emergenze si susseguono, dagli incendi passiamo ai nubi fraggi. Non abbiamo i mezzi idonei per poter fronteggiare queste emergenze. Quelli che sono arrivati sono scadenti, anche se di nuova fattura. Pertanto vogliamo rispetto, sicurezza e riconoscimento delle nostre malattie professionali. Rivendicazioni salariali, certamente, ma anche nuove condizioni, anzi la condizione per cui i vigili del fuoco possono lavorare con efficacia ed efficienza in casi quasi sempre di emergenza. Assolutamente sì, rispetto per la categoria è la prima cosa che noi chiediamo e vogliamo. Oltre a questo mancano gli straordinari che abbiamo espletato, come ad esempio il CAS, che avevamo una convenzione sulle autostrade finita nell'agosto del 2021. Allo stato attuale questi soldi sono spariti, per noi è una vera truffa. L'abbiamo sollecitato alla direzione regionale che non sa come risponderci. Oltre a questo mancano i buoni pasto e tantissimi straordinari anche dell'alluvione dell'anno scorso. Abbiamo chiesto a gran voce, continueremo a protestare fino a quando non avremo questo rispetto che i vigili del fuoco meritano. Parliamo adesso di...